Un assassino umiliato e un arco che contrae le nostre vite, che potrebbero essere adoperate in modo decisamente migliore. Infatti, creare un posto di lavoro in una fabbrica militare costa almeno tre volte rispetto alla creazione di un posto di lavoro in campo. Un assassino umiliato e un arco che contrae le nostre vite, che potrebbero essere adoperate in modo decisamente migliore. A raffinare risorse economiche, a sostenere le politiche imperiali dei Stati Uniti e Unione Europea. Insomma, il F-35 è un uomo, è un uomo, è un uomo, è un uomo, è un uomo.